A me viene in mente un amico caro che è comunque da quelle parti bazzica, anche perché lì c'è tante belle aziende anche di arredamento. Fabio Novembre mi piacerebbe che fosse premiato, è un amico, ma è un amico che porta alta la bandiera del design italiano nel mondo ed è un nostro conterraneo meraviglioso, anche simpatico. Un grande abbraccio a tutti, ciao! Grazie a tutti!